Oggi eseguiremo l'ozono discolisi che è una tecnica mini-invasiva per il trattamento delle ernie discali responsabile della sintomatologia dolorosa detta lombosciatalgia o più comunemente sciatica. Questa tecnica consente un millimetrico posizionamento sotto un controllo radiologico ad alta definizione di una sottile ago sonda nel disco intravertebrale nella successiva iniezione di ozono che determina la riduzione di volume dell'ernia e di conseguenza del dolore. Tale tecnica presenta una valida alternativa all'intervento chirurgico per i bassissimi rischi anche per l'alto tasso di successo. Tale procedura viene eseguita in anestesia locale, in sediazione cosciente, viene tenuto in osservazione per circa un'ora e poi dimesso a domicilio. Il giorno dopo può già eseguire le normali attività quotidiane. Grazie a tutti.